Domenica mattina ero in centro a Milano, in un bar proprio alle spalle di Piazza Duomo. Avete presente uno di quei bar tutti happy hour e turisti russi. I due baristi, i due ragazzi giovani, stavano parlando tra di loro di calcio. Uno diceva all'altro, no, guarda che l'arbitro di linea c'è solo in Champions League. L'altro a un certo punto alza la testa, getta uno sguardo ad un monitor alle mie spalle ed esclama, ehi, siamo in guerra. Sullo schermo c'è l'immagine di un jet che si avvita in una spirale di fumo. Poi il barista torna a preparare gli stuzzichini per l'aperitivo. Vi racconto quest'aneddoto perché questa attenzione fluttuante, questa nonchalance del barista milanese nei riguardi della guerra che avviene sullo schermo televisivo, mi sembra emblematica dell'atteggiamento di tanta parte, forse di troppa parte dell'opinione pubblica italiana. È un atteggiamento che viene di lontano. Si origina, secondo me, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio del 1991. Vi ricordate la prima guerra del Golfo? La prima volta che una guerra si svolge in diretta televisiva. Crea una situazione inedita, tremenda, per cui qualunque fosse la nostra opinione riguardo a quella guerra, anche se noi eravamo assolutamente contrari alla guerra stessa, fatalmente rimanevamo degli spettatori televisivi, comodamente adagiati nei divani di casa nostra, mentre dall'altro lato dello schermo le persone morivano a migliaia, a decine di migliaia. Ecco, la cosa da fare a riguardo è innanzitutto adottare un principio di onestà linguistica intellettuale. Ehi, è in corso una guerra, ha ragione il barista milanese. Chiamare le cose con il proprio nome, quella è una guerra. Nonostante tanta parte della classe politica italiana, perfino il Presidente della Repubblica si affanni a negarlo. L'altra cosa da fare è sforzarci di assumere un atteggiamento di estrema gravità e serietà riguardo all'accaduto. Ciò che sta accadendo è un evento fatidico, stenderà le sue conseguenze sull'intera nostra esistenza. Abbiamo preso posizione all'interno di un dramma di masse continentali, quelle d'ernodrafica, che premono alle porte dell'Europa. E abbiamo preso posizione a favore dei giovani ribelli della Cirenaica. Ne abbiamo sposato il destino. Adesso non potremo più abbandonarli. Gheddafi ci ha dato dei traditori, ha detto che gli italiani sono traditori. E dal suo punto di vista dispiace riconoscerlo a ragione. Fino a pochi mesi fa ospitavamo le sue tende pittoresche a Villa Borghese. Il Presidente del Consiglio gli baciava l'anello. Oggi invia i jet a stanarlo e a bombardarlo. Ecco, facciamo in modo che anche i giovani ribelli della Cirenaica, passata la fase dei bombardamenti del cielo, non debbano chiamarci traditori. Buona serata a tutti.